Grazie, e nel 1966 arriva questa mazurka, basta guardare le note, sembra proprio di essere sulle montagne russe nel parco di divertimenti insieme a Claudio Zanardo. E allora sì Gianni, lo stavo per dire adesso, si può anche ballare in pista, andiamo con la mazurka, montagne russe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo Gianni, brava Tina. Accettiamo anche altre copie in pista, ne vogliamo sempre di più. Grazie a tutti. Claudio Zanardo. Benissimo, si lavorano con una bella polka, vogliamo ricordare a tutti ancora che possiamo ballare in pista, un brano del 1980 con le sue note rispetto...